Io ho cercato di avere un sopralluogo già da marzo che ho richiesto, un sopralluogo che andasse a consentirci di vedere lo stato dei lavori. Le ultime giornate di pioggia hanno fatto slittare ai primi di giugno il sopralluogo a Barcola richiesto dalla consigliera dei 5 Stelle Alessandra Richetti che oggi ci ha accompagnato ai topolini per mettere in evidenza alcune segnalazioni in merito all'andamento dei lavori di ripristino del lungomare danneggiato dalle mareggiate d'autunno. Richetti parte dall'accessibilità al mare da parte delle persone con disabilità attraverso la rampa che però ad oggi risulta ancora coperta di detriti. Una delle domande che volevamo fare è che una prima rassicurazione era venuta via stampa era stata ma ci sarà la possibilità per i disabili di arrivare al mare? Attualmente a metà di maggio praticamente questo non appare ancora possibile nonostante le rassicurazioni che sono state fatte anche dall'assessore Lodi. Richetti segnala ancora il possibile problema della mancanza di servizi igienici vista la chiusura ancora per l'estate di quattro topolini. Col mio sopralluogo volevo anche sollevare quello che è il problema dei servizi. Chiaramente siccome un certo numero di strutture rimarrà chiuso molto probabilmente la gente si riverserà sul restante della costiera. Non si fa tendere la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Lisa Lodi pur con il rallentamento dei lavori dovuto ai tanti giorni di pioggia dell'ultimo periodo la rampa per i disabili sarà pronta per l'estate. A rimanere chiusi saranno solo i topolini quarto, quinto, sesto e settimo 4 su 10 mentre i terrazzamenti saranno tutti aperti a prescindere dalla chiusura della struttura sottostante che è stato verificato. In nessun caso risulta pericolante. Quanto ai servizi è già stata finanziata e predisposta l'installazione di bagni chimici.